In cui ripeto l'obiettivo è uno solo, partire bene, portare a casa quella prima vittoria stagionale in campione di torno è ancora arrivata e pallone dentro una mischia Attenzione, cerca di saltarlo, non salta, arriva a secondo il tiro e gol, 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 ma che gol ha fatto, oh oh Minuto 11 Ma che guardate che azione Guardate Con una grande azione di contropiede E allora si Tutti in pieni anche a casa Per il gol di Tritolo